Bocciato le false promesse di Mino, e questo il manifesto apparso in alcune delle strade cittadine di Barletta, la firma è quella del Partito Democratico della Città, che in una nota stampa ha dichiarato i primi cento giorni del cannito bis sono trascorsi. Come era prevedibile por di vincere le elezioni, aveva a suo tempo scritto un libro dei sogni. Classica demagogia, ma stavolta la distanza tra realtà e illusione è davvero troppo eccessiva. L'elenco sul manifesto racchiude quelle che per il PD sono le promesse non mantenute. Il Partito Democratico non ha metabolizzato la sconfitta alle scorse elezioni, risponde così all'attacco il sindaco Cosimo Cannito. Purtroppo il PD non ha fatto un'analisi della sconfitta, non ha metabolizzato la sconfitta e fa ancora politica di bassa lega che la porterà ancora ulteriormente ad isolarsi politicamente dalla città. Perché loro sanno, per aver amministrato per vent'anni questa città e forse anche più, tutti i problemi che noi abbiamo all'interno dell'amministrazione comunale, che sono problemi di natura burocratica, di natura progettuale, fanno finta di non saperlo e tra l'altro noi stiamo recuperando tutto il tempo perduto dalla gestione commissariale che è stata una gestione quasi di inerzia totale, oltre al fatto che il PD volutamente lo dimentica che abbiamo avuto due anni di Covid che ha completamente bloccato tutte le attività amministrative. I pochi atti di questa amministrazione finora sono frutto e larga parte di implementazioni e recepimento di atti provenienti dalla Regione. Vincere con le promesse è facile, realizzarle è un altro paio di mani che hanno incalzato i referenti del PD cittadino. Cannito si rivolge direttamente a questi ultimi. Dopo la sconfitta avreste dovuto dimettervi. Prima di mettere in discussione l'operato di Cannito e loro sanno il lavoro che sto facendo, incominciassero a ragionare sui motivi della sconfitta e incominciassero a fare proposte serie, proposte serie e incominciassero ad assumersi anche la responsabilità di quella sconfitta nella persona di chi propone quei manifesti. Perché io, qualora fossi stato un rappresentante di quel partito all'indomai della sconfitta, avrei dovuto avere la sensibilità politica di dimettermi. Entro tre mesi dall'insediamento, questo è il termine che lo Statuto Comunale impone al Sindaco per presentare le proprie linee di mandato. Forse Cannito è distratto o troppo impegnato a questa dichiarazione del Partito Democratico, Cannito risponde così ai nostri microfoni. Il prossimo Consiglio Comunale le stiamo depositando, saranno oggetto di delibera di giunta, saranno presentate alla Presidenza perché poi le possa portare in discussione per il prossimo Consiglio Comunale.